salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video avete presente quando si sente in televisione l'intervista ad un musicista ad un cantante che gli si chiede ma quando è iniziato a scrivere questa canzone e la risposta spesso e volentieri è una canzone che ho iniziato a scrivere tanto tempo fa dopodiché l'ho dimenticata in un cassetto e adesso sono andato a ripescarla ecco stessa cosa è successa a me con il video che state per guardare un video che ormai ha quasi un anno di vita era un cinematic video dedicato alle riprese notturne cioè per far vedere come un drone in questo caso un dji air 2s è in grado di riprendere in notturna quindi quando la situazione di luce praticamente è inesistente questo video che avevo già praticamente pronto che poi mi sono dimenticato anziché in un cassetto in una cartella di un hard disk e quindi è finito in un dimenticatoio e adesso casualmente è risbucato fuori e mi son detto ma perché non ho mai pubblicato questo video forse adesso è il momento di pubblicarlo anche perché è un video secondo me che fa veramente capire sia la qualità notturna quindi la qualità del sensore della fotocamera di un dji air 2s allo stesso tempo ci fa anche capire che emozioni possono darci delle immagini fatte con un drone in notturna quindi ragazzi se il video che state per vedere dovesse piacere vi lasciate un grosso pollice su seguitemi su instagram porto tante novità tante prime spoiler tantissime cose arrivano su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante il mondo della tecnologia e dei droni quindi tantissimi coupon sconto dedicati arrivano lì ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non adesso mettetevi comodi e buona visione di questo volo notturno con dji air 2s buona visione di questo volo notturno con dji air 2s buona visione di questo volo notturno con giamma Grazie a tutti. Grazie a tutti.